covid nelle marche 12 giorni senza decessi bonifica ex amga si parte a settembre a mondolfo si restaura il complesso di sant'agostino a pesaro il primo campionato italiano di foot voli Gentilissime telespettatrici, gentilissimi telespettatori, benvenuti anche questa sera all'appuntamento quotidiano con il telegiornale di Rossini News. È un'apertura quella di oggi, venerdì 16 luglio, dedicata alla sanità. Con la giornata odierna salgono a 12 i giorni consecutivi senza decessi di marchigiani contagiati da Covid-19. E questo è il dato più confortante che emerge in questo mese di luglio dalla fotografia della pandemia nella regione Marche. Numero incoraggiante come quelli che continuano ad annotare appena 13 i pazienti ricoverati negli ospedali regionali, di cui solo due in terapia intensiva. Il dato sui contagi, comunque ridotti, resta ancora quello più altalenante e complesso da decifrare. Le marche rimangono abbondantemente nei parametri da zona bianca, chiudendo la settimana con 17 casi ogni 100.000 abitanti. Il report di oggi mostra come i nuovi casi positivi siano 52, con un'incidenza di contagio che risale dal 3 al 4,2%. Il numero più alto è nel Pesarese, con 18 nuovi casi. Cifre che sono emerse da 2.454 tamponi processati, di cui 1.231 nuove diagnosi. E due tamponi positivi al Covid-19 al momento di rientrare in Italia hanno trasformato le vacanze in Grecia di due studentesse pesaresi del liceo Mamiani in una quarantena prolungata che ha bloccato le due ragazzi di 17 e 18 anni in un appartamento sull'isola di Corfu. Un episodio che allunga la lista dei vacanzieri italiani che si stanno contagiando durante villeggiature in Spagna, Grecia e Malta e che si trovano bloccati al rientro in Italia. Le pesaresi in questione erano arrivate a Corfu l'8 luglio, dovevano rientrare in Italia martedì, ma all'obbligatorio test medico per il rimpatrio sono risultate positive, nonostante una delle due giovani avesse pure ricevuto la prima dose del vaccino. La bonifica dell'ex AMGA inizierà il prossimo mese di settembre. Ad annunciarlo è l'assessore alla sostenibilità Heidi Morotti, che spiega come il comune di Pesaro e Marche Multiservizi abbiano individuato la ditta che si occuperà dei lavori nell'area del centro direzionale Benelli di via Morosini, per dare decoro ad una zona che lo attendeva da anni per la salute dei cittadini residenti. Ad aggiudicarsi la gara la società trevigiana ITQ per un importo contrattuale massimo pari a 470.000 euro. Sarà una bonifica a step che prevederà alla pulizia dell'area la realizzazione di opere civili, scavi e del fito lago. E da Pesaro ci spostiamo al comune di Mondolfo, dove è stato presentato oggi l'avvio ad un importante restauro storico architettonico, quello del complesso monumentale di Sant'Agostino. Vediamo il servizio. Mondolfo, il completamento dei restauri del complesso monumentale di Sant'Agostino, dopo che già sono stati compiuti i lavori all'interno della chiesa nella quale ci troviamo, oggi è iniziato il percorso che porterà al restauro e alla rimessa nuovo anche del chiostro e della parte esterna. Presenti a Mondolfo il nuovo prefetto di Pesaro, eccellenza Tommaso Ricciardi, a una delle sue prime uscite pubbliche, perché la prefettura ha avuto un ruolo importante nel reperimento delle risorse utili a completare questo restauro, naturalmente il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri l'ho accolto e si tratta davvero di un'opportunità incredibile per il territorio, perché il complesso monumentale di Sant'Agostino è un'attrazione turistica vera e propria, a pochi passi dal mare, come abbiamo potuto verificare anche per la presenza di molti turisti. Qui veramente io oggi sono doppiamente felice, primo perché abbiamo in questa giornata dato inizio e ufficializzato, attesa l'avvenuto finanziamento dei lavori, l'inizio degli stessi che avverrà a breve, ma soprattutto è stato per me un motivo di gioia poter vedere la bellezza di questo complesso, a cominciare da questo chiostro meraviglioso e dai tesori che sono racchiusi nella chiesa di Sant'Agostino e sui quali io posso sicuramente assicurare che il FEC, che è il principale finanziatore, ma non dimentico e tengo ad evidenziare come anche il Comune, con un grosso sacrificio, abbia contribuito al finanziamento di questi lavori, che il FEC continuerà a seguire, perché è un'opera che dobbiamo assolutamente valorizzare, al di là dei lavori che sono stati previsti e progettati. Quindi precedentemente durante la presentazione, la conferenza stampa, abbiamo espresso il desiderio con il Sindaco di iniziare a lavori conclusi un percorso di valorizzazione di questo complesso, non solo a beneficio dei cittadini di Mondolfo o comunque dei cittadini della provincia di Pesaro, ma anche per i turisti, perché abbiamo registrato con la ripresa del turismo anche una ripresa significativa del turismo culturale. Quindi la gente è assetata di vedere le opere d'arte e quindi noi qui abbiamo tutti i presupposti perché questa attività turistica possa decollare. Il complesso monumentale di Sant'Agostino è uno dei luoghi più belli del nostro territorio, necessitava di questi interventi sia per migliorare la sicurezza ma anche per migliorare l'immagine del chiostro. Il ringraziamento come amministrazione comunale a nome di tutta la comunità lo rivolgiamo alla Prefettura di Pesaro Urbino e alla Soprintendenza delle Marche per questo accordo che è fondamentale per tutta la nostra comunità. Grazie al contributo della Prefettura e al contributo anche del Comune di Mondolfo a proseguire i lavori che dalla Chiesa adesso si spostano all'esterno nel chiostro con il completamento delle due ali del chiostro. I lavori che comprenderanno il rifacimento della pavimentazione e anche il completamento del consolidamento di questa parete con alla fine l'eliminazione di questi puntelli messi in sicurezza provvisoria che erano stati effettuati una decina di anni fa. Per questi lavori al chiostro sicuramente ci serviranno poco meno di un anno. Lasciamo un attimo di tempo per alcune manifestazioni che il Comune deve realizzare qui all'interno della Corte e in più dobbiamo provvedere con alcune verifiche statico-strutturali per individuare gli interventi più idonei per il consolidamento di queste arcate di questa parte del chiostro. Quindi inizieremo diciamo verso la fine di agosto e si potranno per circa dieci mesi o poco più o poco meno. Si è concluso l'osservatorio regionale della specializzazione intelligente. Un ampio ciclo di incontri che negli ultimi mesi ha portato la Regione Marche ed in particolare il Vice Presidente Mirko Carloni a confrontarsi con decine di realtà industriali e imprenditoriali per affrontare le principali sfide di innovazione, ricerca e intercettazione dei fondi europei. Osservatorio che si è concluso all'insegna della moda presso la Compagnia del Denim di Serra dei Conti. Rossini TV era presente con il nostro Marco Cadedu che ha realizzato questo approfondimento. Siamo a Serra dei Conti all'interno dell'azienda Compagnia del Denim di Alessandro Marchesi in occasione dell'osservatorio regionale sulla specializzazione intelligente l'ultimo appuntamento organizzato dalla Regione Marche e quest'oggi un tavolo tematico dedicato alla moda e alla cura della persona. Abbiamo creato una strategia di specializzazione intelligente, ricerca e innovazione che è il più possibile integrata rispetto a tutti i vari obiettivi che si vogliono raggiungere perché soltanto attraverso l'integrazione tra la ricerca, l'innovazione, la formazione che è di fondamentale importanza potremo riuscire a garantire lo sviluppo economico dei nostri territori ed è per questo che stiamo andando su tutti i territori per ascoltare gli imprenditori ma anche le università, i giovani ricercatori, le start-up innovative, gli incubatori, proprio per avere attraverso questo confronto con gli stakeholder le parti più importanti da mettere all'interno della nostra strategia, le politiche che vanno integrate tra loro per un buon funzionamento dell'ecosistema della nostra regione. Per fare trasferimento tecnologico, per dare un contributo vero di innovazione alle imprese è necessario farlo cercando di capire quali sono le reali esigenze degli imprenditori e della produzione e il modo migliore per capire queste esigenze è andare a parlarci, andare a conoscerle direttamente, entrare dentro i processi produttivi e cercare di capire quali di questi processi produttivi possono avere componenti di innovazione o possono avere evoluzioni tecnologiche o dove si può imprimere trasferimento tecnologico formativo. Questo fatto è fondamentale, dobbiamo farlo sempre di più pensando che anche gli ultimi fondi che arriveranno dall'Europa e poi il recovery sono tutte risorse che diventano utili se davvero i bandi finanziano ciò che serve alle imprese. Molto spesso in passato le bandi erano un'occasione per l'imprenditore che doveva fare un progetto tanta burocrazia, tanti certificati poi alla fine il progetto era più che altro il modo per prendere un contributo ma non era utile al processo produttivo reale dell'azienda. Per noi è molto molto importante essere stati scelti dalle regioni Marche perché veramente ci avremmo tanto da raccontare su quello che facciamo ma specialmente per quanto amiamo le Marche e per quello che facciamo tutto nelle Marche quindi sembra strano ma a volte aziendine come le nostre, delle piccole e medie imprese sono sempre all'ombra e invece ci abbiamo veramente tanto da raccontare secondo me. Siamo specializzati in denime principalmente però è tutto quello che poi del cotoniero va trattato, lavato, accessoriato, customizzato quindi lì proprio il nostro core business. Chilometro zero perché qui avviene la prototipia a 50 km c'è la lavanderia ci sono i nostri laboratori quindi veramente a chilometri zero made in Marche e assolutamente sì anche dell'autenticità proprio del nostro prodotto. Finalmente vediamo i politici e i tecnici che vanno sul territorio per rendersi conto di cosa c'è sul territorio di quello che fanno le imprese e questo è veramente molto gratificante sia per le imprese ma va riconosciuto appunto questo metodo nuovo di lavorare e di confrontarsi con il territorio. Il settore della moda è sicuramente un settore che è stato pesantemente danneggiato dal fenomeno della pandemia tuttavia possiamo dire che ci sono dei segnali veramente incoraggianti che ci fanno ben sperare per il futuro. Il mio bilancio è che lo faranno gli imprenditori il bilancio noi adesso ci mettiamo a lavorare dopo aver ascoltato tutte le cose che ci hanno detto e questo confronto credo che sia stato utile. Il bilancio vero lo faremo quando vedremo che quei soldi che investiremo genereranno un'impresa marchigiana più competitiva più in grado di stare sui mercati e il risultato saranno i dati di produzione interna lorda saranno i dati di esportazione della nostra regione ma soprattutto saranno i dati di assunzioni di posti di lavoro che eviteranno questa transumanza reale di tanti giovani che vanno via dalle marche dopo la laurea. Dobbiamo fermare questo processo emigratorio dei giovani marchigiani. Importante accordo fra Comune di Pesaro, Hapa Hotels e Pesaro Parcheggi. Da domani, sabato 17 luglio, sarà infatti creata un'area di sosta di 60 posti sul lungomare di Levante specificatamente dedicata ai turisti in vacanza a Pesaro. L'area è stata ricavata fra gli stalli dell'Istituto Alberghiero Santa Marta, sarà aperta 24 ore su 24 e sarà sorvegliata. L'area a parcheggio resterà dedicata ai turisti fino al 31 di agosto. Il meteo incerto di questo venerdì ha cambiato i programmi di alcuni eventi dei quali vi avevamo dato notizia nel telegiornale di ieri. È infatti rinviata il 22 luglio la cerimonia di premiazione al Liceo Marcone degli studenti pesaresi promossi col massimo dei voti alle scuole medie e superiori che era prevista questo pomeriggio. Cambia sede invece il concerto Heroines in tributo a David Bowie previsto domani sera all'anfiteatro del Parco Miralfiore. Si terrà infatti al teatro sperimentale sempre il 17 luglio con inizio dei concerti alle 19 e alle 22 e 15. Da martedì 20 luglio l'Università degli Studi di Urbino apre la sua campagna di iscrizione all'anno accademico 2021-2022. Una campagna reclamizzata dall'hashtag SaiPerché che propone dati chiari su numeri e opportunità dell'Università unendola a simboli della città come i Torricini o il Duca Federico da Montefeltro. Al teatro sperimentale lunedì 19 luglio alle ore 20 si chiuderà con il tradizionale concerto finale la 33esima edizione dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda diretta dal sovrintendente del ROF Ernesto Palassio. Hanno partecipato all'edizione 2021 19 allievi provenienti da Italia, Russia, Spagna, Germania, Ucraina, Cile, Corea, Messico e Georgia. Nel programma del concerto brani dall'italiano in Algeria, Semiramide, L'occasione fa il ladro, Zelmira, Tancredi, La Gazzetta, La Cambiale di Matrimonio, L'Inganno Felice, Il Turco in Italia, La Gazzaladra, La Cenerentola, La Scala di Seta, Il Signor Bruschino. Gli allevi dell'Accademia interpreteranno poi il viaggio a Reims che andrà in scena al Teatro Rossini fra il 15 e il 18 agosto nell'ambito della 42esima edizione del ROF. E poi sabato 17 luglio sul palco di Piazzale della Libertà dalle ore 21.15 si terranno le celebrazioni di Vacanze insieme a Micocane 2021. Appuntamento che quest'anno coincide con i 150 anni di Empa. Tanti gli ospiti a partire da Ettore Florio, patron di Natale insieme a Micocane e del suo corrispettivo estivo Costanza Lucchino, presidente di Empa Pesaro. Ma anche tante novità come le primule di Eva, gruppi di volontari che in questi mesi si sono donati anima e corpo per ritrovare gatti, cani, conigli, uccellini che si erano persi con grande cuore e professionalità. Non mancheranno l'appello agli amici di Rossini TV, come Giacomo Lucchetti e la sua Juliet, protagonisti del nostro format Quala Zampa e sempre più impegnati a consegnare cibo e attenzione ai rifugi e ai canili più sfortunati. Saranno presenti anche le guardie zoofile Empa e ci sarà la consegna delle medaglie al merito per coloro che hanno passato e passano la loro vita aiutando i nostri amici a quattro zampe. Una grande festa per continuare a ricordare come i nostri animali facciano parte della nostra famiglia e possano essere motivo di gioia sia a casa che in vacanza. E le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece al completamento e all'inaugurazione del nuovo murales che abbellisce il collegamento fra Calata-Caio-Duilio e Strada fra i due porti. Un disegno perfettamente armonizzato allo scenario del porto pesarese adagiato sulla parete del ponte che scavalca la Darsena e il fiume Foglia. Applausi del Comune di Pesaro all'opera realizzata dall'artista Rossella De Stefani. 21, 22, 28 e 29 agosto sono queste le quattro date per il Carnevale Estatico di Fano, versione estiva della più nota delle feste fanesi che in questa edizione 2021 si dividerà fra la Sassonia e il centro storico. Quando si parla del Carnevale si parla del DNA della città di Fano, quindi più che un evento, più che un evento importante. Quindi l'importanza in un periodo come questo di mantenere un settore come quello del Carnevale, come tutto l'indotto che crea, come tutti coloro che lavorano nel Carnevale, era per noi fondamentale. Quindi un Carnevale un po' rivisto, quindi un Carnevale statico, ma altrettanto bello che saprà raccontare appunto il nostro DNA e quindi la possibilità nel periodo estivo di venire, di trovare, di toccare con mano ciò che siamo e di prepararci per quello che sarà il Carnevale 2022, che sarà bello, che avrà il getto dei dolciumi, che avrà tutto quello che noi abbiamo sempre conosciuto. Quindi un ringraziamento veramente a tutti gli operatori perché stanno facendo un lavoro enorme e con questo lavoro aiuteranno anche tutto il comparto economico, quindi le attività che sono nella zona mare, nel centro storico, perché il Carnevale si muoverà in questi due assi, aiuterà la città a ripartire. Oggi presentiamo il programma del Carnevale estivo, chiamato Estatico, perché sarà in forma statica, come vuole, il protocollo Covid. Avremo due weekend, gli ultimi due weekend di agosto, molto interessanti, frizzanti, sempre nel nome di Dante. Vi cito qualche evento più significativo, ci saranno con noi Murubutu e Clavergold, i due rapper che hanno rappato l'Inferno di Dante. Ci sarà inoltre uno spettacolo un po' piccante di Imi Silli Noir, che è un'artista che fa burlesque, perché siamo all'inferno, così come Musica Rock, spazi dedicati ai bambini, a cura dell'Associazione Cartone, l'ASET che promuove dei laboratori del riciclo. E in centro storico, l'ultimo weekend, ci sarà una grande caccia al tesoro, dove parteciperanno e saranno coinvolte tutte le associazioni della città, dai bagnini, le spiagge, le fazioni della città e chi vorrà ovviamente turisti, ospiti degli alberghi. E chiuderemo con un grande concerto di Samuel Dei Subsonica all'Arena BCC, organizzato da On Stage in collaborazione con l'ente carnevalesca. Stanno tornando i grandi eventi sportivi nazionali a Pesaro, questa volta a essere ospitata è una prima edizione assoluta, quella del campionato italiano di foot volley, disciplina che mescola calcio e beach volley, che domani, sabato 17 luglio, si disputerà al Maracanà Beach Sport di Viale Trieste o, in caso di maltempo, allo Smash di Via Toscana. A sfidarsi saranno le migliori 32 coppie italiane della disciplina. Siamo veramente molto contenti e soddisfatti di questa opportunità che ci viene concessa dal gruppo Foot Volley Italy per organizzare appunto il primo campionato italiano di foot volley. Sarà sviluppato in quattro tappe il circuito, appunto partiamo da Pesaro domani mattina e in agosto, il 29 agosto, ci sposteremo a Roma per poi a settembre andare a Savona e concludere le quattro tappe a Rimini nel mese di novembre. Verrà decretato alla fine il campione, la coppia campione italiana e le prime due andranno a giocarsi il campionato europeo nel 2022, quindi con le altre nazioni europee si sfideranno quindi i migliori. Saranno presenti 32 coppie da tutta Italia, quindi domani mattina partiremo alle ore 10, tempo permettendo il campionato partirà dal Maracanà in Viale Trieste, se purtroppo come sembra il meteo non ci aiuta abbiamo questo piano B e ci sposteremo allo Smash Sport in Via Toscana, indoor. Quindi 32 coppie che si sfideranno per poi arrivare alla finale nel pomeriggio. Siamo riusciti a uniformare tutto il movimento, insomma ce n'è ancora tanto di lavoro da fare però da domani finalmente avremo un inizio, sarà la prima di quattro tappe, quella di Pesaro poi saremo a Roma ad agosto. È una grande gioia incominciare questo tour dove si vedranno tutti i migliori giocatori italiani che si sfideranno e cercheranno di battersi per poi cercare di arrivare ad un punteggio che il prossimo anno gli permetterà di competere a livello internazionale. Nonostante i recenti problemi che ci hanno coinvolto tutti quanti con il Covid siamo riusciti in poco tempo a mettere su una struttura all'altezza perché siamo accompagnati da Sky che è in eccellenza nel panorama italiano, possiamo essere fieri di questo, secondo me il football è uno sport che dal punto di vista televisivo uscirà molto molto bene e poi la storicità di un marchio come Umbro che è storicamente sempre legato al calcio però ha visto questo progetto e anche i vertici di Umbro Italia si sono entusiasmati e insomma ci stanno accompagnando. Noi ti ricordiamo con le maglie di Roma e Sandora per ricordarne, per citarne solo alcune ma ci chiediamo da dove dopo una carriera in Serie A arrivi questa infatuazione per questa disciplina? Beh infatuazione è proprio la parola giusta perché finito di giocare insomma ho trovato con Fred e con degli amici in comune uno sport che non conoscevo e che se per qualche verso ricorda il calcio per altri è completamente diverso, insomma nel calcio si tende a tenere la palla il più bassa possibile per poterla giocare, qui invece in questo sport bisogna cercare di alzarla per arrivare a rete e mettere in difficoltà l'avversario e mano a mano è diventata sempre di più una droga, uno sport che piace tantissimo anche ai giovani, sicuramente non è semplicissimo perché c'è la difficoltà della sabbia, però insomma io mi sono veramente innamorato. Ancora sport e ci occupiamo di tennis? Nella stessa domenica in cui Matteo Berrettini diventava il primo tennista italiano a presentarsi sul prato di Wimbledon per la finale del più prestigioso torneo mondiale, a Pesaro le ragazze del Tennis Club Baratov hanno conquistato la promozione in Serie A2 femminile dopo lo spareggio col Tennis Club Montecchio. Dalla Serie C alla Serie A2 inanellando tre promozioni in quattro anni. È questa l'impresa delle ragazze del Tennis Club Baratov che domenica 11 luglio hanno centrato un traguardo storico per il tennis pesarese vincendo in casa il turno di ritorno dello spareggio promozione con le rivali di Montecchio. Un'impresa firmata da Matilde Magrini, Emma Ferrini, Gioia Barbieri, Carlotta Mercolini e Francesca Tassi. Ragazze formidabili capitanate dai coach Luca Pavoni e Giovanni Bottai. Posso dire che non ci aspettavamo assolutamente questo risultato soprattutto a inizio campionato ma anche durante il campionato è stato un traguardo che non ci aspettavamo e semplicemente partita dopo partita siamo arrivati a questo risultato. Quale pensi sia stata la chiave di questo successo visto che lo reputi inaspettato? Probabilmente l'unione che c'è tra noi giocatrici, i capitani e anche tutto il circolo. La chiave a livello di partita è stata secondo me la vittoria con Copertino che è la prima in classifica in casa il 2 giugno mi pare. Quanto si alza ora l'asticella per voi? Probabilmente lo scopriremo solo il prossimo anno e cercheremo di alzare sempre l'asticella perché siamo contenti di giocare per il circolo e giocare partita dopo partita per dare il meglio di noi. Una cavalcata dalla Serie C alla 2 femminile costruita su un movimento sportivo fatto di lavoro, lungimiranza e programmazione accompagnata dai benauguranti risultati di piccoli tennisti e tenniste che consentono di guardare con ulteriore fiducia al futuro. Abbiamo conseguito diversi campionati regionali a livello under quindi per far notare la forza del nostro vivaio, della nostra scuola Tennis Life che è nominata Top School a livello Italia. Quindi la forza di queste ragazzine che conseguono campionati individuali, campionati a squadre per poi portarsi a rendersi disponibili per le prime squadre, la Serie C che è completamente composta da ragazzine del nostro vivaio per poi portarsi anche, chissà mai, un primo o poi in prima squadra che appunto dal 2022 parteciperemo al campionato di Serie A2. Nell'Under 10 appunto abbiamo conseguito finali nel maschile con Cordella Lorenzo e con Pierini e Lisa battute solamente in finale. Nell'Under 13 abbiamo conseguito una finale tutta Baratov con la vittoria di Pistola Ilari su Pierini. L'Under 14 femminile abbiamo conseguito il campionato individuale con Maria Stella Musarra e per finire l'Under 16 femminile, tutte ragazze quindi, con Tassi Francesca appunto il campionato Under 16. E veniamo ai programmi di questa sera sul nostro canale 633 di Rossini TV. Alle 21.15 andrà in onda la registrazione della serata che si svolta una settimana fa a Gallo di Petriano aspettando il Gallo d'Oro. L'edizione 2021 della manifestazione Canora che si svolge nella località della provincia di Pesaro, una serata condotta dalla nostra direttrice Emanuela Emirossi. Vi rimandiamo poi a domattina con l'informazione alle 7.20, con l'appuntamento in diretta, con la lettura dei quotidiani, con il nostro Marco Cadeddu, visibile anche direttamente sulla nostra app di Rossini TV. Vi auguriamo quindi una buona serata in compagnia dei programmi di Rossini TV e anche e soprattutto un ottimo e bellissimo weekend.